Un cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprim e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il nostro prima Tg che apriamo con le nuove misure restrittive che dovranno essere prese dal Governo sul suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico intanto oggi come ogni venerdì c'è il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute che potrebbe portare a nuovi cambi di colore per il momento, l'Italia è prevalentemente in zona arancione ma alcune regioni potrebbero passare nella fascia di rischio più alto una delle regioni che rischia maggiormente il Piemonte lo ha confermato praticamente l'assessore alla sanità Luigi Cardi ritenendo questa ipotesi molto probabile anche perché si avvicina la soglia dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti, idem per il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia ci sono poi due regioni che ufficialmente sono in zona arancione ma che al loro interno hanno molte chiazze rosse sono le Marche e l'Emilia Romagna e a cambiare colore potrebbe essere anche la Puglia che dovrebbe passare da giallo ad arancione con delle punte di rosso in alcune aree in ogni caso le nuove norme entreranno in vigore non prima del prossimo lunedì provvedimento peculiare anche per quanto riguarda il periodo di Pasqua infatti l'Italia tutta dal 3 al 5 di aprile sarà zona rossa compresi dunque i giorni di Pasqua e Pasquetta questa è l'intenzione del Governo secondo quanto emerge dalla riunione con regioni e denti locali dalla zona rossa nazionale saranno esentate solo le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca attualmente l'unica che rientra in questi parametri è la Sardegna anche il Ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe ribadito che appunto durante le festività di Pasqua viene disposta la zona rossa di carattere nazionale tranne appunto la zona bianca le nuove misure restrittive all'esame del Governo saranno valide dal 15 marzo al 6 di aprile in base a un decreto legge subito dopo l'incontro con le regioni ci sarà un Consiglio dei Ministri dove verrà proprio approvato un decreto legge non il DPCM, il Premier Draghi e il Governo ritengono importante coinvolgere il Parlamento e avere il confronto di tutte le forze politiche questo quanto ha dichiarato il Ministro Maria Stella Gelmini ora i casi Covid nazionali sono 25.673 i nuovi positivi al test nelle ultime 24 ore secondo i dati del Ministero della Salute il tasso di positività sale al 6,9% con 373 nuovi deceduti aumentano sia i ricoveri ordinari con 365 posti letto in più sia le terapie intensive con più 32 la regione che fa contare più casi nelle 24 ore è la Lombardia con 5.849 casi seguita dalla Campania con 2.981 e l'Emilia-Romagna con 2.845 nel totale nazionale i guariti sono stati 15.000 in Campania invece i dati sono stati diramati come di consueto dall'unità di crisi regionale regionale sono 2.981 come si diceva i nuovi positivi con 684 persone sintomatiche i tamponi effettuati sono stati 27.465 di cui 4.312 antigenici i deceduti sono stati 27 di cui 18 vittime nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza ma contabilizzati soltanto ieri i guariti sono stati 1.674 per quanto concerne invece il report di posti letto su base regionale ci sono 656 posti di terapia intensiva disponibili ne sono occupati 156 mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria tra offerta pubblica e privata a disposizione della regione ci sono 3.160 posti letto ne sono occupati 1.492 ora il caso di AstraZeneca la situazione è delicata non solo in Italia ma in tutta Europa perché aumenta con il passare delle ore il rischio che la psicosi prevalga sulla fiducia dopo i tre casi sospetti dovuti alla morte di persone che da poco si erano appunto vaccinate con il siero di AstraZeneca sotto osservazione c'è il lotto con la sigla ABV2856 che riguarda circa 500.000 dosi commercializzate in Italia e in Europa che sono state sequestrate da Inasse in alcuna buona parte non ancora utilizzate quella partita di vaccini era destinata in gran parte a personale scolastico e forze dell'ordine soprattutto per la scorsa settimana e l'inizio di questa ma appunto dopo le notizie che si sono iniziate a diffondere nella giornata di ieri ci sono stati molteplici dubbi in tantissime regioni con tante persone che erano in lista e hanno chiamato proprio i centri vaccinali chiedendo non solo rassicurazioni ma andando proprio a disdire quella che era la loro prenotazione questo per esempio è avvenuto nel lab di Catanzaro un'altra situazione che si sta profilando è quella di evitare addirittura di sottoporsi alla seconda dose questo quanto si legge in alcune chat whatsapp di docenti della Campania proprio in regione è stato comunicato dall'unità di crisi nella mattinata odierna che non ci sono evidenze scientifiche delle problematiche legate al vaccino di AstraZeneca dopo la sospensione delle prime ore del mattino si è ripreso appunto con la vaccinazione del siro di AstraZeneca il cuore e il motore della lotta alla pandemia covid in Campania sono da un anno sono loro i medici e il personale sanitario che appunto stanno lavorando con orgoglio e professionalità da un anno questo il ringraziamento del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha incontrato una delegazione di familiari di medici di famiglia deceduti durante il periodo pandemico ha detto il governatore desidero ancora una volta ringraziare i medici e il personale sanitario in prima linea in queste settimane per fronteggiare l'emergenza coronavirus ancora di più il nostro pensiero va a coloro che hanno dovuto pagare un prezzo altissimo a causa del virus eppur comprendendo le diverse situazioni dal punto di vista lavorativo e contrattuale per ragioni umanitarie è giusto tutelare le famiglie di tutti i medici che sono deceduti appunto per il virus per questo ha concluso De Luca raccogliamo il loro appello e segnaleremo questa situazione al Ministero della Salute e del Lavoro come all'Inps proprio perché deve essere riconosciuto il loro impegno Ci spostiamo ora a Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica a cura come sempre dell'Asl di Terra di Lavoro nella giornata di giovedì 11 marzo sono 314 i nuovi soggetti risultati positivi con 104 guariti e 3 deceduti i tamponi processati sono stati 2790 per un tasso di incidenza che è sceso all'11,25% nel saldo complessivo c'è un aumento di 207 attuali positivi su tutto il territorio Caserta continua ad essere in cima per numero di contagi con 523 casi attivi c'è poi Maddaloni con 416 e Aversa con 304 Proprio a Caserta il sindaco locale Carlo Marino ha parlato della situazione contagio sul territorio con un video rivolto alla popolazione, sentiamo è sempre difficile dover trasferire notizie sulla pandemia ancora di più è difficile quando le notizie iniziano ad essere complesse, articolati, difficili è chiaro che è andato in vicore il nuovo DPCM dal 6 marzo del Presidente Draghi è chiaro a tutti che in questo momento c'è una zona rossa in Campania e quali sono i dati di Caserta con voi li voglio analizzare per cercare di capire quali possono essere le nostre correzioni o la nostra attenzione rispetto ai dati che ci preoccupano ed è sicuramente un momento particolare perché abbiamo superato la soglia anche psicologica dei 500 casi positivi in città, abbiamo fortemente un indice RT, quindi epidemiologico che è in fase di crescita abbiamo ancora un dato di percentuale inferiore alla media regionale però è tutto in crescita, questo significa che dobbiamo stare attenti dobbiamo evitare di uscire, siamo in zona rossa si esce soltanto per salute, per motivi di lavoro, per stato di necessità questo significa andare a fare delle cose urgenti necessarie per la propria vita non necessarie per risolvere un singolo problema non si sta nei parchi, sapete che c'è l'ordinanza numero 7 del Presidente della Regione saranno chiusi i mercati dalla giornata di domani, sia quelli rionali sia quello generale niente parchi, niente ville, non si possono stare in strada, non si devono fare assembramenti aumentare l'attenzione del nostro rapporto con l'igienico sanitario è un mascherina fissa, diciamolo ai nostri ragazzi, diciamolo ai nostri anziani attenzione, dobbiamo restare a casa situazione delicata anche sul territorio di Santa Maria Vico infatti il Sindaco Pirozzi ha deciso di provvedere con due apposite ordinanze per limitare ulteriormente la diffusione del contagio sentiamo proprio le parole del primo cittadino anche al Comune vanno messe delle regole precise per cui al Comune di Santa Maria Vico si entra solo per motivi urgenti attraverso appuntamenti con i vari funzionali voi sul sito troverete così come anche all'ingresso del Comune troverete i nomi dei dirigenti, i loro numeri di telefono o attraverso le mail potete contattarli e comunicare le esigenze che avete per cui attraverso appuntamento potete comunque continuare a fare le attività che dovete fare. Ho emesso un'apposita ordinanza la 65 del 9 e poi ieri ho emesso un'altra ordinanza che tocca sicuramente più da vicino la nostra libertà è la 67 del 10 marzo la quale ordinanza ovviamente limita le uscite ovviamente noi dobbiamo uscire solo se abbiamo da fare delle cose urgenti e indifferibili la nostra regione campagna zona rossa e per cui le limitazioni già vierno noi abbiamo voluto visto i fenomeni del fine settimana nelle piazze, nei parchi nelle nostre nei parchi giochi la massima affluenza dei giovani e meno giovani abbiamo ritenuto di intervenire vietando la sosta e la permanenza nelle piazze nei parchi giochi e nelle aree verde questo è un dato essenziale da stamattina la polizia municipale sta provvedendo a recintare queste aree proprio per evitare che ci siano possibilità di diciamo di assembramenti e quindi di divulgazione del virus chiudiamo con il calcio il Napoli prosegue il cammino di avvicinamento alla sfida di San Siro contro il Milan e sul punto è sempre più probabile il recupero del messicano Lozano come ha confermato il suo entourage anche se non per tutti i 90 minuti Gattuso potrebbe optare per Osimena al centro dell'attacco in balottaggio con Mertens dietro sulla tre quarti giocheranno Politano, Sielischi e Insigne in difesa a balottaggio Rachmani e Manolas per affiancare Koulibaly sulle fasce Mario Rui e Di Lorenzo in mediana Demme e Fabian Ruiz il Milan invece a emergenza in attacco Pioli dovrà fare quasi sicuramente a meno di Anterebic al pari di Ibraimovic e Benasser in attacco confermato Raffaele Au a centrocampo coppia di centrocampo con Meite e Franchesi autore di una grande prestazione nella serata di ieri contro il Manchester United Infine il Benevento un componente dello staff sanitario del club campano è risultato positivo al Covid è un membro dell'equipo medico-fisioterapica presente nel gruppo che ha seguito la squadra nella trasferta dello scorso sabato alla Spezia come da protocollo sono scattati tutti i controlli per i collaboratori del club e per quanto riguarda i calciatori non c'è nessuna positività riscontrata nel giro di tamponi cui si è sottoposta la squadra proprio il club infatti si è sottoposto a questo test e contestualmente anche ai test sierologici attraverso i quali appunto si potrà individuare l'eventuale presenza del virus all'interno appunto dell'organismo dei giocatori con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata arrivederci